Musica Con l'ingegnere Borghi, Casa Grande Padana, un marchio assolutamente storico. Poi vogliamo sapere dall'ingegnere novità, prodotti che esponete a questa rassegna di Cersaie. Per quanto riguarda, qui siamo proprio nella parte engineering, noi quest'anno abbiamo messo sul discorso piscine e impianti natatori, in particolare presentiamo anche un bordo piscina con i materiali della Mina del Cron, quindi materiali della Casa Grande Padana, che possono essere utilizzati per questioni estetiche di una certa importanza, quindi come può essere nei centri benessere, negli alberghi, e abbiamo presentato un bordo di questo tipo. Per quanto riguarda il discorso pareti ventilate, abbiamo rimesso comunque la struttura per la parete ventilata, i listelli frangisole, che si utilizzano con materiale metallico, ma adesso si utilizzano anche con un materiale ceramico, quindi questo è uno studio recente che abbiamo fatto. Io vedo appunto lì questo BIOS, ce ne vuol parlare che cos'è, cosa si tratta? Noi sul BIOS addirittura abbiamo partecipato a maggio proprio all'Expo Sanità qui a Bologna, dove abbiamo presentato la piastrella antibatterica, in particolare il BIOS fa sì che la nostra piastrella abbia delle proprietà antibatteriche illimitate nel tempo e soprattutto 24 ore su 24, quindi non c'è bisogno della luce o di particolari condizioni per attivarsi. Altri concorrenti hanno sistemi differenti, però presentano piastrelle antibatteriche che hanno bisogno appunto della luce, di condizioni particolari affinché le proprietà antibatteriche si possano attivare. Nel nostro caso il fatto che noi utilizziamo delle particelle di argento all'interno della piastrella fa sì che il nostro prodotto ha proprietà antibatteriche, come dicevo, sempre, praticamente 24 ore su 24. Questo discorso di ricerca che lei appunto mi stava facendo mi porta a un altro tipo di ragionamento, il discorso appunto dell'impatto ambientale, quindi ormai vedo che anche altri vostri concorrenti si stanno direzionando su questo importante aspetto. Voi cosa state facendo? Noi abbiamo come Casa del Grande Padana già da diversi anni la ISO 14001 che è la certificazione di sistema ambientale e da due anni a questa parte abbiamo ottenuto sempre presso un ente terzo il Certi Quality anche la certificazione LID, quindi le nostre piastrelle utilizzano materie prime riciclate o comunque materiale riciclato che viene distolto dal flusso produttivo e riutilizzato in un altro stabilimento. Questo fa sì che la nostra piastrella può ottenere dei crediti LID, quindi un punteggio LID per quanto riguarda l'utilizzo di materiale riciclato. Inoltre, come ho spiegato prima, avendo anche il BIOS che è un'innovazione di prodotto contribuiamo addirittura con quattro punti e i crediti LID perché trattasi di una piastrella innovativa. Grazie mille, buon lavoro.